Ehi, tifosi innamorati del Milan! Sono qui per portarvi le ultime novità dal fronte del nostro amato club. Come sempre, non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sui nostri rossoneri. Andiamo subito al dunque, il Milan è più concentrato che mai nella ricerca della perfezione per la propria squadra, puntando a rinforzi che possano portare risultati brillanti. Le ultime informazioni suggeriscono che il nostro club è nel mercato dei trasferimenti, alla ricerca attiva di alternative per la posizione di attaccante. Tuttavia, la posta in gioco è una sfida e la corsa contro il tempo è iniziata. Ma credetemi milanisti, il Consiglio sta lavorando instancabilmente per garantire un nome forte e rafforzare ulteriormente la nostra rosa. Secondo l'autorevole La Gazzetta dello Sport, le trattative con me di Taremi sono ancora in corso, ma la situazione non sta procedendo come previsto. Purtroppo sembra che questa possibilità stia lentamente svanendo. La dirigenza rossonera però non sta ferma e, come ben sapete, la ricerca di opzioni è incessante. Una nuova luce brilla sulla scena, amici miei. Recentemente, il sensazionale Siviglia Youssef Nesiri è stato offerto alla nostra dirigenza. Questo giocatore di talento ha conquistato i nostri cuori la scorsa stagione con una prestazione incredibile ai mondiali, oltre a segnare 18 gol in tutte le competizioni per il club andaluso. E non è tutto, ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista dell'Europa League. Un bel curriculum, non credi? Tuttavia, come tutte le storie, anche questa presenta le sue sfide. La porta sembra chiudersi, il Milan è riuscito a trovare solo il prestito, mentre Nesiri cerca una soluzione più definitiva e duratura per la sua carriera. Ora è il momento che i rossoneri si uniscano e dimostrino il nostro incrollabile sostegno al nostro club. Lascia quel like per dimostrare che siamo insieme in questo viaggio verso il successo. E non dimenticare di iscriverti per seguire tutte le future novità e aggiornamenti del Milan. Siamo giunti alla fine di questa entusiasmante notizia, ma la conversazione è appena iniziata. Condividi nei commenti cosa pensi di questo possibile nuovo acquisto e come vedi il futuro del Milan. La tua opinione è fondamentale. Forza Milan, sempre! Cerchio rosso, cerchio blu, cerchio medio. Iscriviti al canale e lascia il tuo like per sostenere il Milan.